Il Partito della Rifondazione Comunista organizza un incontro antifa con la sinistra europea per un'Europa antifascista, antirazzista, antiliberista, con presenze da Germania, Ungheria, Bulgaria, Austria, Spagna e tante realtà italiane. Sabato 15 settembre dalle 10 e mezza durante la festa di Rifondazione Comunista Milano al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio 3 a Milano. Uno spazio per discutere, ragionare e confrontarsi anche fra partiti e movimenti con il concerto del coro Suoni e Lampi e la partecipazione di Vermi di Rouge. Tutto il programma su Facebook e su Rifondazione.it